giochiamo insieme anche stasera amici direzione a catena partiamo da caldo fr o finale è il terzo elemento caldo come temperatura freddo ma di solito non vengono usati caldo africano parole con un fr? Frivolo può essere? Fregorifero perché si usa quando va caldo caldo fresco è un qualcosa il caldo fresco tessuto può essere? No è un fresco di lana no non va bene caldo frigo l'abbiamo detto tipo tipo torri del genere ma non caldo frenetico un frutto caldo no no fritto neppure una cosa fritta un fritto e caldo viene servito caldo deve mangiarsi ma è un po' azzardata per dire oppure fre fre che c'è solo fresco no solo tenere in caldo tenere in caldo qualcosa frapposto frettoloso frettoloso no quindi ricapitolando fritto alla fine l'unica parola che c'è freddo caldo freddo freddo fresco frullato no ma il frullato è fresco tema caldo tema tipo di attualità tema caldo frivolo ma frivolo no frivolo no tempo di riflessione è terminato federico che facciamo compriamo il terzo elemento ormai perché abbiamo forse una parola ma non è abbastanza per 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 lanciarci e allora dimenziamo 24.250 euro ecco il terzo elemento riposato e fresco fresco sicuramente fresco e fresco caldo sarà qualcosa temperatura le due possibilità di un condizionatore condizionatore fa fresco e non fa caldo fa fresco è una persona riposata e una persona fresco riposato va benissimo fresco non mi viene in mente nient'altro sono le due possibilità di un climatizzatore l'unica cosa perché magari ti verrebbe da dire freddo invece è fresco può essere un climatizzatore che fa entrambe le cose che riscalda si 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 caldo fresco proviamo con riposato altrimenti con riposato ci va perfetto con caldo federico qual è la parola di stasera fresco togliamo le cuffie come siete arrivati a fresco soprattutto da riposato perché fresco e riposato sono due sinonimi subito ci è venuto in mente con caldo possono essere le due opzioni di un condizionatore un condizionatore d'aria che fa sia caldo che fresco sia caldo sia freddo però con freddo e riposato non stavano benissimo insieme certo il condizionatore ce l'abbiamo su caldo su deumidificatore su freddo la parola di stasera del valore di 24.250 euro è è fresco 24.250 euro fresco e riposato il pane fresco appena sfornato come è caldo come i nuovi campioni appena sfornati e già vincenti qui in reazione a catena amici delle spettatori appuntamento a domani adesso c'è il TG1 buona serata di cuore a tutti ciao